Siamo in compagnia di Marcella Messina, assessora al Comune di Bergamo con Delegalo Sport. Quali sport la appassionano? Fin da quando ero piccola pratico molto sport e ho sempre praticato sport. Ho iniziato con la pallavolo. Tuttora i miei allenatori sono persone di riferimento per me, sono ancora persone che sento. Ho fatto anche il pattinaggio, lo sci, insomma tutti i sport che prevedevano anche una dimensione di gruppo perché poi lo sport è relazione tanta. Amo anche gli sport minori, forse dimentichiamo, ma anche gli scacchi sono uno sport e quindi pratico anche gli scacchi. Qual è il valore sociale dell'Atalanta per la nostra città? L'Atalanta è un importantissimo riferimento per tutte le età, mi viene da dire davvero. Tra l'altro nelle mie deleghe io ho anche le politiche sociali e quindi questa dimensione della appartenenza è un tema che intuisco fin dalle giovani generazioni, giovanissime, fino alle persone più anziane quando vado nei centri anziani. Quindi mi rendo conto che davvero è un target e ha un valore sociale di appartenenza molto importante. Come intende muoversi in merito al tema degli impianti che toccano Bergamo? Bergamo in questi prossimi cinque anni sarà appunto accompagnata dall'amministrazione in quelli che sono questi nuovi impianti e soprattutto la gestione di nuovi impianti. Abbiamo grandi opere che stanno venendo avanti, alcune devono ancora partire, altre sono avviate e tutte avranno anche una componente sociale ma soprattutto di vicinanza ai gestori, alle associazioni sportive perché queste svolgono davvero un ruolo cruciale. Pensiamo anche al ruolo importantissimo che hanno le polisportive dentro i nostri quartieri. sono esperienze di capitale umano e sociale, di forte coesione da valorizzare. In cinque parole, che cosa vorrebbe per lo sport a Bergamo? Vorrei che potesse davvero rispondere alle esigenze di tutti e quindi che avesse la caratteristica dell'inclusione, di poter accogliere tutti e dell'accessibilità, un'accessibilità proprio che possa permettere a tutte e a tutti, i bambini, i bambini, le ragazze, i ragazzi, ma non solo, anche pensiamo alla popolazione più adulta e anziana di avere un'offerta adeguata e all'altezza delle proprie aspettative e dei propri desideri. Mi piacerebbe che fosse davvero sostenibile, sostenibile nei costi, non solo per chi si iscrive ma anche proprio per chi deve gestire le società sportive. Sappiamo che è un compito molto complicato e delicato e che quindi ci debba essere il sostegno anche in questi passaggi, che possa essere rispondente un po' a quelle che sono le capacità anche del territorio e quindi di mescolarsi anche con le esperienze più interessanti dentro i quartieri, quindi che non fosse autoreferenziale ma capace di costruire reti di collaborazioni e soprattutto che possa avere questo carattere di innovazione, quindi uno sport che sa leggere quelli che sono i bisogni, i desideri anche della comunità e insieme, non da solo, provare a costruire delle risposte. Grazie mille per essere stata qui con noi oggi. Grazie a te e grazie a tutti voi.